Siamo al termine di questa straordinaria avventura elettorale, un viaggio durato oltre 5 mesi, una partecipazione popolare enorme che ci ha visto presenti nella nostra città, tra la gente, in tutti i quartieri, in tutte le strade, in tutte le piazze. Abbiamo costruito un programma di mandato molto importante, fitto di impegni, dove abbiamo voluto gettare il cuore oltre l'ostacolo per continuare a fare, continuare a crescere, occupandoci ovviamente delle scommesse più importanti di cui il nostro territorio ha bisogno, come lo sviluppo del lavoro, come la valorizzazione del nostro patrimonio più importante, che è la nostra storia, la nostra cultura, le nostre bellezze naturalistiche, la scommessa di poter fare Gaeta una meta internazionale a livello turistico, ma anche per lo sviluppo delle nostre economie, dall'economia del mare all'artigianato, al commercio e a tutto ciò che nella nostra città può rappresentare sviluppo economico e riqualificazioni urbane, come la Piana di Sant'Agostino, la Piana di Arzano, l'Ex-Arie e tanti altri siti minori che possono rappresentare la differenza nella nostra città. Ma tutto ciò si può concretizzare e trasformare in realtà solo grazie all'impegno, solo grazie alla caparbietà, solo grazie alla possibilità di trasformare queste idee in pubblica amministrazione e in realtà. Per questo il 12 giugno è importante che tutti quanti voi continuate a dare fiducia a questa squadra, continuate a dare fiducia a chi ha avuto la possibilità di dimostrare che le cose si possono realizzare e soprattutto di dare fiducia a questo gruppo che ha fatto dei sogni un valore importante. Custodiamo dentro il cuore un sogno molto grande che è quello di fare Gaeta ancora più grande. Per questo vi chiedo il vostro appoggio, per questo vi chiedo il vostro sossegno, per fare Gaeta ancora più grande.